Incredibile tragedia a Catanzaro, dove una mamma si è suicidata dopo che la figlia di 7 anni è caduta dalla finestra di una casa famiglia a Botricello ed è finita in ospedale in gravi condizioni. Sono in corso le indagini sull'episodio, avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 novembre. Mamma e figlia, originarie di un centro della presila catanzarese, erano ospiti della struttura da diverso tempo e, nonostante una situazione complessa, vivevano nel centro con normale tranquillità. Stamani l'incidente della piccola, seguito dal gesto estremo della mamma. La bambina si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. A quanto pare la donna non avrebbe retto al dolore per le condizioni, ribadiamo, gravi della figlia. Da qui sarebbe nata la decisione di togliersi la vita. La donna e la bambina da tempo vivevano in una casa famiglia, ma, secondo alcune indiscrezioni, seppur nelle difficoltà, la loro vita trascorreva tranquillamente. Una storia tragica che ha sconvolto un'intera comunità.